Individuato e arrestato Luna Bomber che inviò una pendrive esplosiva all'avvocato Monica Maragno che la consegnò alla procura di Trapani dopo aver ricevuto un plico sospetto la USB esplose poi tra le mani di un agente di polizia giudiziaria che ne voleva visionare il contenuto. In carcere per minacce e lesioni gravi è finito Roberto Sparacio, 51 anni, originario di Palermo ma residente a Pantelleria, ingegnere informatico accusato anche di possesso di materiale esplodente e pedopornografico. La pendrive venne recapitata al legale nel settembre del 2016. In quel periodo Monica Maragno si stava occupando della vendita all'asta di alcuni beni dell'indagato. Uno dei suoi creditori peraltro era cliente del legale. Sembra che l'ingegnere informatico nel mondo più oscuro del web abbia cercato di ingaggiare un killer per farlo uccidere. Circostanza questa scoperta da un agente dello SCOC che ha agito sotto copertura che nel frattempo era entrato in contatto con Sparacio tramite social network. Il plico aveva come mittente l'ordine degli avvocati. Prima di aprirlo la donna contattò la segreteria. Non abbiamo spedito niente la risposta. Così la decisione di sporgere denuncia alla procura alla quale consegnò la posta ricevuta. Gianni Aceto in servizio al palazzo di via 30 gennaio ebbe l'incarico di visionare il contenuto. La USB gli esplose però tra le mani rimanendo gravemente ferito. Già in passato Sparacio si sarebbe reso responsabile di un analogo episodio. Voleva colpire il titolare di un pub palermitano che aveva acquistato all'asta un immobile di sua proprietà. Collocò una chiavetta USB nel bagno dell'esercizio commerciale a farne le spese. Un cliente che portò la pendrive a casa rimanendo ferito nell'esplosione della stessa. Nel mirino dell'Una Bomber anche tre operai che lavoravano in una cava di pantelleria di sua proprietà. Nel sedire di un escavatore mise dell'acido i tre che reclamavano stipendi arretrati sedendosi rimasero ustionati. Nell'abitazione dell'indagato gli investigatori avrebbero rinvenuto un piccolo laboratorio per la fabbricazione di ordigni esplosivi materiale che peraltro l'ingegnere avrebbe messo in vendita su subito.it. Adesso invece al vaglio degli inquirenti il materiale pedopornografico rinvenuto nel pc dell'arrestato. Non si esclude pertanto che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi come dichiarato dal capo della squadra mobile Fabrizio Mustaro nel corso della conferenza stampa di questa mattina. L'arrestato è veramente persona pericolosa e capace come ha dimostrato almeno in due occasioni di fare del male. L'indagine è partita da un fatto analogo accaduto nel 2016 a Palermo e l'analogia dei due fatti ci ha consentito di individuare il movente e quindi di arrivare dritto al sparaccio Roberto. Ante le indagini abbiamo documentato l'esistenza di un mini laboratorio nel quale lo sparaccio miscelava le sostanze chimiche esplodenti a sua disposizione. Pare che nel mirino dell'uomo ci fosse in realtà un cliente dell'avvocato Maragno che era quella che poi aveva ricevuto il pendrive, addirittura avrebbe cercato di assoldare un killer attraverso il deep web. Sì, sempre dall'attività di indagine emerge che il vero destinatario del pendrive che ha ferito l'ispettore della Polizia di Stato Aceto era l'avvocato di uno dei suoi creditori che vantava un credito di oltre 200.000 euro. Grazie a tutti.